Grazie a tutti. Stiamo realizzando in Regione Puglia un ciclo di incontri rivolte ai comuni e ai gestori del servizio per spiegare la corretta modalità di smaltimento e di trattamento di questa tipologia di rifiuto. Quindi è molto importante assicurare il corretto trattamento presso gli impianti adeguati. Obiettivo chiaramente non può che essere quello di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta e della post gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche puntando al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta annuale previsto dalla direttiva pari al 65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato a partire dal 2019. Come si comporta Andrea nei confronti di questo tipo di rifiuto? Andrea è una città molto in gamba per quanto riguarda la raccolta differenziata. In Regione Puglia in generale occorre fare un passo importante per quanto riguarda l'indirà e pertanto l'obiettivo di questi incontri è quello di mettere in condizioni i comuni ma anche i gestori di smaltire correttamente questa tipologia di rifiuto. Su questo fronte è importante la collaborazione tra istituzioni e cittadini per contrastare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, in particolare quelli ingombranti che spesso rientrano proprio nella categoria dei RAE. L'intento di questo incontro chiaramente era quello di spiegare i corretti conferimenti proprio per evitare questi abbandoni che io definirei assurdi proprio perché colui che li compie rischia una sanzione chiaramente di 500 euro a fronte di un conferimento presso l'isola ecologica che veramente non riesco a comprendere. Quindi proprio per inalzare la percentuale di raccolta differenziata che è già oltre il 65% da diversi anni l'incontro odierno tende proprio a colmare quella carenza di informazioni che è giusto fare proprio per tenere vivo l'argomento.